Siamo qui per metterci la faccia, nel senso che siamo i responsabili, sono i responsabili tecnico, quindi siamo qui perché abbiamo una grande voglia di reagire, una grande voglia di cambiare quello che sta avvenendo, perché siamo fermamente convinti che questa squadra possa fare molto di più di quello che è stato fatto fino adesso, quindi purtroppo non è bastato questo mese, dobbiamo fare qualcosa di diverso, correggere degli errori perché ci sono degli errori, è evidente, però si va avanti a testa alta, preoccupati, è normale che ci aspettavamo un risultato diverso, ci aspettiamo una squadra come nella prima mezz'ora di eventi negativi ci possono essere in qualsiasi partita, è lì che bisogna lavorare perché la squadra deve reagire anche dopo aver preso un gol, quindi siamo qui ad analizzare sempre gli stessi errori ma purtroppo sono tutte uguali, questo è il lavoro che dobbiamo fare noi al più presto.